Sindaco, una bella giornata per Diano Marina che coinvolge settori importanti. Sì, ci è andata anche bene, ma noi di solito siamo abbastanza fortunati. Ieri sembrava il diluvio quasi universale, non ci sono stati danni, la buriana è passata e oggi ci ha permesso di fare questa manifestazione che viene dalla notte dei tempi. Io ricordo che veniva mio padre, mi portava mio padre che era un bambino, perché avevamo la passione dei tordi, degli uccelli da richiamo e quindi venivo con lui. Sono felice, c'è parecchia gente più di quello che pensassi, visto che il tempo era inclemente, ma diciamo che questo spazio di sole oggi ci ha dato ancora una volta la possibilità di fare una bella manifestazione. E possiamo dire che Diano Marina ha tanto da offrire in tutti i periodi dell'anno? Sì, diciamo che noi in tutto l'anno abbiamo qualche cosa da far vedere, sia ai dianesi, sia a quelli del Golfo dianese e ai turisti che ci vengono a Diano a soggiornare. Tutti, io d'estate quasi tutti i giorni, insomma, non quasi, tutti i giorni. Queste sono le tradizioni che rimangono e che noi coltiviamo. Sindaco ma anche cacciatore, siamo giunti alla 63esima edizione di questa fiera, è importante che continui? Sì, ovviamente che continui, anzi, stavamo parlando proprio adesso col sindaco di Diano Marina che pensavamo a un altro anno, cercare di ingrandirla un pochino e farla tornare quella che era la fiera di tanti anni fa. Ci teniamo tantissimo, io in particolar modo, perché è la mia prima passione, la passione di mio figlio, siamo una famiglia di cacciatori, quindi speriamo che si possa migliorare ancora di più questa fiera. Una fiera importante per tutta la Liguria? Sì, soprattutto per la nostra provincia, per il nostro Golfo ovviamente, però è rimasta una, diciamo, delle poche, quindi importante per tutta la provincia e tutta la regione.